grazie mille raga allora come ti ho già detto Gabriele metto davanti tutta la mia ignoranza sulla musica in generale e sulla musica che fai tu ovviamente ho un po' studiato per farti le domande però se ti chiedo delle cose assurde o banalissime chiedo perdono ma tranquillo abbiamo estratto un tuo verso da una canzone che è diventato il titolo di questa oretta che passiamo insieme ho imparato tutto perché mi sentivo vivo mi sembrava giusto perché sei in una scuola una scuola di scrittura e narrazione loro sono il loro terzo o quarto giorno di scuola e niente ti volevo chiedere che vuol dire per te ho imparato tutto perché mi sentivo vivo allora come state raga tutto bene? siete gasati saltate lezioni si sente bene il microfono? sentite bene tutto? sì? ok perfetto allora ho imparato tutto perché mi sentivo vivo è di cultura italiana l'intro del mio primo EP cultura e praticamente in quel pezzo racconto di quando io e Sala il mio produttore siamo andati ad Atlanta con niente in tasca tanto in test c'è proprio sogno americano proprio all'estrema potenza e lì è veramente stato il posto in cui ho imparato tutto perché mi sentivo vivo cioè nel senso era il posto in cui tante volte per renderci conto di cosa vogliamo fare di quanto vogliamo prendere di vedere come dire del sudore vero devi essere messo alle strette devi essere all'estrema lì comunque era un posto dove faceva super freddo il fatto di non avere possibilità economiche in quel periodo ti permetteva anche di non ti permetteva di poter fare quello che volevi cioè non potevi fare niente però noi comunque siamo andati lì io e lui sulle nostre gambe siamo riusciti a chiudere un fit internazionale con un artista che io tipo fino del Gotit è un artista che in realtà è piccolo cioè qua in Italia non è tanto conosciuto ma lì ha comunque avuto una bella presenza ed è un po' come dire cioè quello è stato il senso di tutto il viaggio cioè io sono stato male un mese stando lì perché ero lontano da casa prima esperienza fuori fuori no famiglia no assistenza cioè io e Sala proprio io e un mio amico come me non so come dire quindi con niente e siamo riusciti comunque poi a tornare con l'incoronamento del sogno che volevamo e quindi secondo me ho imparato tutto perché mi sentivo vivo significa che tante volte bisogna anche saper stare all'estremo ed essere grati di quell'essere all'estremo perché quando poi sei ad un punto più avanzato della tua carriera o del tuo essere ti manca quel sentore di dire però quando proprio non c'era nulla 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 c'era più gas capito quindi vorresti avere sempre proprio quel peso di gas nello stomaco e quindi un po' questo ok grazie mille già questo è utilissimo e direi che ce lo portiamo a casa sì a me viene in mente il fatto che noi con tutte le nostre sovrastrutture intellettuali le cose che leggiamo la cultura che abbiamo però alla fine siamo animali quindi è quando ci sentiamo vivi che poi capitano le cose quindi grazie per la risposta che hai dato vabbè ti faccio una domanda proprio super classica appunto da ignorante da dove viene questo Disgaccia alcuni lo sapranno benissimo però siccome magari alcune persone invece non sanno come mai questo è il tuo nome allora vorrei avere una risposta più interessante su Disgaccia però non è troppo interessante cioè nel senso allora Dis nasce perché io prima mi chiamavo solo Dis quando ho iniziato a fare musica quindi tipo il primo pezzo l'avevo pubblicato nel 2015 quindi era solo Dis e dal 2020 ho aggiunto Gaccia Dis era ero piccolo avevo 14 anni il mio amico mi fa ti puoi chiamare Dis Dis mi piaceva come parola perché non per il dissing ma perché mi piaceva il fatto che non lo so poteva significare questo in inglese 10 in francese mi piaceva proprio il fatto che poteva essere un po' più internazionale come parola non a livello di scrittura ma proprio a livello di di sonorità e Gaccia l'ho aggiunto perché crescendo secondo me Dis non era troppo impattante non mi piaceva tanto non mi rispecchiava troppo però comunque faceva parte del mio passato quindi l'ho voluto mantenere e ho aggiunto Gaccia perché con i miei guardavo un bottonarcos tipo io in quel periodo lì e c'è un un tipo che si chiama Gaccia una comparsa che in realtà muore pure subito quindi spero di non essere così però si chiamava Gaccia e e parlando una volta in a caso un po' mezzo in spagnolo facendo gli scemi così lui mi aveva detto tipo Gaccia e ha detto boh Gaccia spacca come nome bello secondo me e quindi ho deciso di Dis Gaccia fino a che poi non l'ho sentito mio perché comunque non so come dire cioè adesso mi sento Dis Gaccia capito cioè una cosa che ovviamente viene dallo zero viene creata già da un qualcosa però è come se Dis fosse il mio passato e che da quando ho aggiunto Gaccia ho iniziato a fare le cose più seriamente a prendere più sul serio la musica e alla fine mi ha portato dei risultati anche se piccoli quindi di Sgaccia cioè quindi l'ho fatto mio ok grazie e questa cosa dell'ho fatto mio vabbè mi viene in mente una cosa che non avevo pensato di dire ma mi viene in mente ascoltandoti cioè in effetti noi dovremmo imparare da voi che fate questo tipo di musica come scrittori narratori narratrici scrittrici questo fatto di vestire un nome che non è quello con cui noi siamo nati perché a volte magari può essere una corazza uno strumento ovviamente esistono gli pseudonomi ma andavano molto più di moda nell'ottocento nella nostra arte che adesso anche se voglio dire Elena Ferrante forse rappresenta un caso invece in cui lo pseudonimo è andato alla grande comunque vabbè hai detto una cosa bella adesso di cui prima si parlava un secondo anche in cortile cioè questo adesso lo sento mio una cosa che ho notato in altre tue interviste cose che ho trovato in rete di te è questa pazienza questa idea del non devo avere tutto subito c'è un tempo per fare le cose come questo fatto del tempo come come lo vedi cosa cioè pensi che sia importante quando si è giovani e si sta iniziando una carriera artistica prendersi il tempo per arrivare dove si vuole secondo me è super importante anche perché raga cioè io non so se voi siete qua per fare una carriera di cinque anni in cui volete tutto subito o se volete avere una carriera di tutta la vita di vent'anni di trent'anni di quarant'anni specialmente poi magari chi canta finisce un po' prima chi scrive invece finché non muore può andare avanti quindi secondo me semplicemente cioè la cosa importante secondo me della vita specialmente in questi lavori qua è avere consapevolezza di quello che hai attorno se tu attorno hai la consapevolezza giusta saprai che non so cioè che comunque quella lungimiranza è importante quindi è meglio lavorare giorno per giorno non saltare le tappe prendersi quello che vuoi giorno per giorno e anche un domani essere l'artista che realmente vuoi però almeno fare le cose con calma perché in questo mondo non so se anche nel vostro mondo ci sono dei modi che tutti sanno che sono sicuri per saltare degli step per arrivare prima il problema è che arrivare prima non ti permette mai di creare delle basi per poter andare poi avanti quindi cioè semplicemente dovremmo essere grati tutti i giorni di quello che stiamo facendo e ci deve essere sempre la voglia di dire voglio di più voglio di più voglio di più ma questo voglio di più ti porta sempre al gradino dopo non a dieci gradini dopo perché quei nove prima o poi ti mancano per forza perché non sai puoi comportarti non sai c'è volere tutto subito mi ricordo un mio amico ok una persona che io stimo tanto che quando avevo iniziato con la musica dopo un po' tipo forse nel 2020 così mi aveva detto mi aveva fatto un audio che mi ero messo nei preferiti dove mi aveva detto bro se non vuoi tutto subito ce la farai hai tutte le caratteristiche se non vuoi tutto subito ce la farai quindi c'è proprio fa parte della mia vita il fatto di non voler tutto subito cioè io sono già grato a per quanto possa essere piccolo a livello magari numerico di artista comunque ovunque vado ho i miei fan ho persone che ci tengono a me che sono interessate quindi se ci devo mettere dieci anni in più per prendere anche tutti gli altri che in questo momento non sto prendendo ci metterò dieci anni in più e tanto si vince sempre alla fine cioè l'ultimo sospiro lo fa alla fine perché non ha senso vincere ora per poi un domani non vincere più grazie anche questa cosa qua sì assolutamente c'è un corrispettivo pure nell'arte che loro stanno iniziando a a studiare pensa che in questa scuola fino a qualche anno fa c'era l'idea che non non si dovesse iniziare a scrivere se non tipo alla fine del primo anno perché è molto importante immagino anche per voi però per scrivere vivere quindi non avere la fretta di mettersi a scrivere qualcosa se ancora non sei diciamo cresciuto abbastanza da poter esprimere bene quello che hai vissuto ti faccio una domanda che un po' è ritornata nelle domande loro di questi giorni cioè rapporto tra passione e mestiere no? paura di bruciare trasformando in un mestiere qualcosa che ami e a cui si è appassionato tu su questo ti sei fatto delle idee come la pensi come la vedi quando ti sei accorto che la musica per te poteva diventare un mestiere se è una cosa di cui hai ancora paura di perdere passione diventando sempre più bravo tecnicamente o no come la vedi? è un argomento di cui si parla per cent'ora allora sicuramente qualcosa cambia nel senso che allora diciamo che cambia però se tu hai realmente la passione la passione rimane cioè alle volte a noi succede che non lo so per esempio adesso siamo in chiusura del disco ok stiamo chiudendo in realtà abbiamo chiuso da poco però le ultime settimane sono state un po' più cruciali rispetto le altre perché devi fare delle cose ok cioè nel senso sai che hai questa idea qua che è molto figa ti serve per il tuo cerchio quindi devi fare quella roba lì anche se non è bello il fatto che tu devi farla però devi farlo ok quindi ovviamente se vuoi far sì che sia un lavoro ci sono delle cose che devi fare ma come credo voi raga dovrete scrivere qualcosa che siete bravi potete farlo ma non volete strettamente scriverlo cioè che ti alzi la mattina e dici sì è la mia passione però cioè vorrei fare altro in questo momento quindi secondo me è sempre importante avere un equilibrio un bilancio cioè ci sono delle cose che dovrete fare anche se non vuoi così come io ci sono delle cose che devo fare anche se non voglio però comunque di base se questa è la tua passione anche la cosa che non vorrai fare semplicemente non la vuoi fare rispetto le altre ma non la vuoi fare quindi comunque pur sempre devi essere grato e felice di quello che stai facendo perché non è come dire oggi cioè non è come proprio fare un lavoro che non ti va di fare che proprio dici io questa roba non la voglio fare è comunque una cosa che fa parte di quello che a te va di fare quindi è corretto secondo me fare anche quelle cose lì perché comunque ti serve cioè ci sono tanti artisti che sono dei grandi artisti ma essere troppo artista alle volte ti fa perdere la concretezza delle cose quindi secondo me ci vuole sempre il bilancio di essere artista veramente perché se no non riesci a esprimere dei concetti ad arrivare a dei punti però delle volte servono proprio delle mosse per poter far quadrare tutto e far sì che possa diventare più lavoro che questa cosa possa funzionare un po' di più che questa parola scritta rispetto a che un'altra possa prendere una fetta più larga di persone quindi per forza devi farla questa cosa qua sono hai detto una cosa che insomma che credo che voi scoprirete tra qualche tempo tra qualche giorno però questa qui del essere un'artista ma non essere troppo artista è bellissimo lo sottoscrivo per quel poco che insomma che io posso dire perché non non sopravvalutare diciamo la la spontaneità è anche una cosa importante cioè saper coltivare il gesto nel giorno per giorno dove a volte può sembrare noioso ma come dici tu siamo qui perché tutto sommato abbiamo tutti la fortuna di fare la cosa che ci appassiona di non fare un lavoro a parte e di dover confinare invece la nostra passione a delle ore la sera o nel weekend quando sei stravolto dico solo una cosa diciamo sulle regole del gioco di quest'ora e mezza a differenza degli altri incontri mi piacerebbe che quando voi avete domande alzate la mano e pian pianino io vi vedo e do la parola nel senso è una conversazione più possibile aperta quindi ok posso dire una cosa rispetto a quello di prima non mi ricordo dell'essere artista in realtà secondo me comunque raga la chiave è fare quello che ti piace ed essere felice di fare quello che ti piace perché per esempio ho dei colleghi Rosa Chemical tipo che lui di qua di Torino lui è tanto artista lui è veramente tanto artista e nella vita avrebbe potuto guadagnare anche qualcosa di più se non fosse stato così tanto artista e avesse cavalcato quello che gli arrivava però lui è felice così ce ne senso lui mi guarda e mi dice io con la roba non l'ho fatta e sono felice e lui preferisce fare il pezzo più artistico del mondo con 0,0001 streaming ma sentirsi cioè esprimersi capito e questa roba qua certo e comunque questa cosa qua è una cosa che io apprezzo quindi ognuno secondo me deve poi trovare la sua chiave il suo balance perché devi essere comunque felice così come ci sono tante persone che fanno cose solo perché sono funzionali però poi non sono felici nell'atto pratico cioè c'è veramente nel mio lavoro ma come magari un domani nel vostro quando parli con grandi persone ti aspetti che siano tutti gasati come te felici come te che gli piace quello che stai facendo però c'è tanta gente raga che porta avanti le cose perché ormai ho il lavoro e per il gusto di portarle e io per quanto loro possono essere qua non scambierei mai la mia vita con la loro cioè il mio percorso artistico quindi secondo me ognuno deve essere felice al 100% e sicuro di quello che vuole fare cioè è sempre più rispettabile una persona che dal suo lavoro trae zero ma fa realmente quello che gli piace che una persona che deve scendere a compromessi perché deve fa milioni secondo me assolutamente grazie per questa cosa che hai aggiunto e dico anche sentendoti sempre che un altro rischio soprattutto per per noi diciamo quelli della scrittura della scrittura di romanzi racconto che comunque sono diciamo tecniche lente non è così veloce scrivere un romanzo anzi insomma quelli intrusi degli anni successivi al primo lo sanno bene c'è il rischio di intendere nel frattempo di intendere l'essere artista come una posa cioè io nel frattempo sono un artista invece questo frattempo non esiste cioè c'è la passione c'è quello che stai facendo che diciamo il tuo lavoro anche prima che diventi un lavoro una cosa con cui guadagni il tuo lavoro perché è quello che desideri fare sì esatto vedo che intanto si è alzata una manina di là una manina in su quindi se c'è un microfono ok è arrivato anche comunque mentre gli passa il microfono la roba che dicevate voi dello scrivere ok che non bisogna scrivere fino alla fine del primo anno secondo me ci sta perché per esempio come un artista mi viene in mente tipo Plaza Capo Plaza che in un'intervista fa raga io ho fatto un album importantissimo cosa dico nel secondo se non ho tempo di viverlo e ci sta come roba però comunque credo che tutti voi che siete qua se state facendo questo perché avete già scritto che possa essere una poesia due righe due rocce vi sentite comunque delle persone in grado di poter scrivere o comunque che vi piace senza arrivare per forza alla fine del primo anno e dover scrivere sulla base la base sì è super utile super importante meno male che ci sono scuole come questa che ti danno modo di poter apprendere eccetera però comunque è sempre poi il uno a uno quello che hai dentro tu sì sì che ti dà il via è arrivato il microfono sì sì ok allora a me questa cioè farti una domanda mi spavento un pochino perché comunque io faccio non cioè cerco di fare perché è il mio sogno un po' quello che fai te però non non diciamo non come mestiere perché non riesco a vederlo il mio come mestiere cioè è un sogno che mi tormenta nel senso che cerco sempre di fare bene però per me la cosa più importante è scrivere però al posto che vendersi come dici te non hai proprio detto così però al posto che vendersi io preferirei avere un piccolo gruppo di persone che mi ascolta però che mi continui ad ascoltare non che magari passi quella canzone sei fissato con quella canzone senza neanche magari ascoltare le parole che vuoi dire perché per me la cosa più importante sia la musica il suono così ma la la scrittura del testo secondo me è almeno nella mia è una delle cose più importanti che ci sia perché mi viene proprio dall'anima da tutti i mondi qui ho dentro e quindi niente io non mi sono mai confrontata con con una persona che sta riuscendo perché penso che non si arrivi mai all'apice ma cerchi sempre di arrivarci perché è proprio questo il bello ti spingi sempre a far di più e quindi non mi sono mai confrontata con una persona come te che comunque se hai realizzato questo sogno io volevo chiederti dei consigli lo so che sembra dei consigli perché io non riesco neanche a pubblicare una canzone proprio perché ho paura ma non riesci perché hai paura no le ho pubblicate ok però diciamo non faccio niente per farlo ascoltare perché dico se capiti ci capiti perché allora non cure tanto queste cose secondo me però tu comunque ci tieni quindi è corretto quindi dargli dell'importanza perché purtroppo specialmente all'inizio non succede il se capiti ci capiti perché è una cosa super bella ma se tu mi dici io faccio musica ok la droppo se ci capiti ci capiti e sono felice di farlo è ok però comunque tu sei come dici un po' tormentata capito da questa roba qua quindi secondo me cioè i consigli allora i consigli sono sempre tanto soggettivi ok scusa vabbè certo scusami non è che mi tormenta il sogno di non è che mi tormenta il sogno di diventare che questo sia il mio mestiere ok che questo diventi un giorno il mio mestiere il sogno che mi tormenta è che la musica mi accompagni per il resto della mia vita capito però che ti accompagni pura ok no vai tranquilla ma che ti accompagni un minimo come mestiere o semplicemente che ti accompagni come piacere di quello che tu stai facendo cioè comunque vorresti un minimo di mestiere sì io vorrei che la gente si cioè le persone si rispecchiassero nei miei testi perché è quello che voglio fare è aiutare anche gli altri ma infatti ho detto non posso farlo scusate se prendo tanta tempo ma va è che il mio suono è anche questo basta se vuoi rispondere no ma vai tranquilla ma non farti questi problemi allora secondo me i consigli sono cercare di avere un piano cioè nel senso cercare di individuare un qualcosa da dover fare cioè nel senso allora inizialmente è sempre lo stesso discorso fare musica perché ti piace però a te piace quindi ci siamo giusto? perfetto secondo me devi cioè non c'è veramente un perché nel senso se io ti dovessi raccontare la mia esperienza non è detto che possa aver senso con la tua ok perché ogni strada è a sé però secondo me non è così cioè nel senso tu alla fine la cosa che vorresti è essere ascoltata anche solo non da una fetta troppo grossa di pubblico e avere però delle persone che ti capiscono che comunque secondo me è una cosa bella e sana perché tutte le persone vogliono sempre essere ascoltati da tutti però è bello essere ascoltati da una nicchia di persone ci sono tanti artisti che magari non fanno tanti numeri cioè è un po' il discorso del non fare tanti numeri ma di avere il live pieno hai capito? questa è la cosa migliore per un artista quindi secondo me dovresti acquisire poi non sono nessuno non so come dire ti dico secondo me acquisire un po' più di sicurezza per metterci la faccia ne stavamo parlando prima in cortile con dei ragazzi per metterci la faccia e dire raga io sto facendo questa roba questa roba è veramente un pezzo del mio cuore perché nel momento in cui tu ne fai tener conto le persone glielo dici le persone ascoltano le cose in maniera diversa nel senso la tua canzone se passa per come un amico la mette io potrei dire dopo 15 secondi schippa se tu però mi dici questo è un pezzo del mio cuore che ti sto lasciando importante una persona lo prenderà come importante e lo divulgherà come importante quindi è difficile creare una fanbase da zero cioè nel senso tipo noi comunque l'abbiamo creata con delle cose che secondo me ora non avrebbero più lo stesso impatto capito cioè magari per esempio siamo stati tra i primi nel senso perché non c'era ancora questa voga di magari di fare delle sponsorizzazioni su che ne so su trappitali su queste robe qua che all'inizio però erano tanto funzionali quindi con il prodotto giusto con la roba giusta studiando a minimo dettaglio tutte le cose piano piano sempre si allargava di più però è sempre stato un parola quindi secondo me tu sei ancora in una fase dove devi creare la tua cerchia di persone che la tua cerchia di persone sono le persone con cui vai a bere o i tuoi amici o il tuo vicino di casa quindi superando questa cosa di non aver paura di dire io faccio musica comunque tu oggi stai parlando davanti a un po' di persone hai detto questa roba sto tremando dico eh però però comunque lo stai facendo capito quindi così come perché voglio voglio che questa cosa perché secondo me la musica salva mi ha salvato in un momento difficile mi sta ancora salvando in generale la scrittura infatti faccio questa scuola non a caso perché per me la scrittura è veramente non lo so io con l'autoscrittura con la scusa con la scrittura mi cosa ne pensate di questa cosa di autoanalizzarti con la scrittura ti ha mai successo sì cioè nel senso io comunque sono un artista che ci mette tanto tipo a a scrivere come penso voi non penso che ci metti poco a scrivere quindi io l'autoanalizzo tanto però questa cosa qua secondo me è semplicemente motivo di crescita cioè nel senso una roba che ti può solo dare dei più uno comunque in qualsiasi caso secondo me come adesso hai trovato il coraggio seppur tremando di parlare davanti a un po' di persone che non conoscerai tutti ne sono sicuro devi fare la stessa identica cosa con le persone a fianco a te perché se rendi se fai sì che le persone a fianco a te prendano la tua causa e la rendono loro la renderanno loro anche le persone a fianco quindi c'è è come se apri un nuovo negozio ok passa parola e l'unica cosa è quella poi un domani potrei fare però un percorso lungo 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 e devi avere la costanza e la voglia di volerlo fare e più che altro quello che dicevamo prima c'è la lungimiranza di sapere che un domani c'è quanti anni hai come noi ventuno meno ancora c'è un domani ti piacerebbe se adesso dovessi firmare un contratto con Dio non lo so dove a trent'anni tu potrai avere modo di fare dei tuoi concerti farsi che una nicchia di persone ascolti la tua musica e sia felice lo faresti? no sì sì nel senso lo accetteresti sì lo accetteresti e allora è la stessa cosa ce la farai perché per questi tott'anni lo farai e arriverai a quella cosa lì non è mai tardi cioè devi ce la vai grazie 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 e mentre arriva un'altra domanda mi inserisco chiedendoti una cosa che mi ha fatto venire in mente la domanda di i nomi non li sto ancora bene ma Elena ok di Elena volevo chiederti se tu hai un processo ricorrente di scrittura oppure se da pezzo a pezzo da canzone a canzone cambia tantissimo come hai un tuo un tuo modo che ricorre o dipende allora ce l'ho ricorrente nel senso che tipo io non scrivo senza una base ce ne è senso senza il beat però proprio senza una base una base dico di vita non so come dire se non mi va in quel momento punto a non farlo ecco perché cioè per esempio io sono un artista che io so tutti i giorni in studio ed è una cosa che tipo anche il mio produttore tante volte mi dice ma tu non hai necessità perché io so tutti i giorni ma poi all'effettivo esce una cosa magari in una settimana però non lo so nel senso mi piace l'ambiente che mi piace quindi ci sto però ho una cosa in realtà ricorrente nel senso anzi posso dirti la cosa che dicevamo prima una volta ero meno ricorrente e mi piaceva di più quella roba lì facevo cose a caso perché il cervello mi diceva questo e lo facevo adesso è diventato un po' più impostato quindi è più maturo quindi per carità è utile però mi piacerebbe anche un po' di quell'impostatezza che avevo prima che dicevo qua faccio questo perché grazie mille qua faccio questo perché mi piace fare quello capito ed è una cosa che in realtà dovrei fare quindi cioè penso non sia sia comunque possa essere un più uno il fatto di avere un qualcosa di ricorrente certo lì forse sono anche delle fasi nella tua crescita artistica per cui forse non so immagino si passa dall'essere iper spontanei all'essere più controllati all'essere spontanei ma con dentro più controllo perché sei diventato semplicemente più più grande più maturo intanto mi sa che ok allora ciao la mia domanda è molto personale io quando scrivo le mie canzoni in genere prendo ispirazione da qualsiasi cosa veramente dall'ombrello trovato a caso per terra come dal mio grandissimo problema che mi porto dietro da anni magari tramite metafore per non buttarmi via poi ci sono persone che non riescono a parlare di cose personali ma parlano ad esempio parlano ad esempio con una rabbia adesso però c'è riferimento a un rapper che in realtà non conosco molto bene quindi meglio se non dico il nome che mette dentro una rabbia parlando di cose non personali ma in generale più del mondo o più contenuti espliciti che gli aiutano a tirare fuori quella rabbia tu da cosa prendi ispirazione? da quello che ho attorno anch'io cioè nel senso più che dalle cose dalle persone che ho attorno c'è tipo dei miei amici dalla famiglia dalla ragazza dal mio produttore c'è appunto dalla voglia di farlo c'è più in realtà la mia è più una missione nostra non so come dire quindi questa cosa qua ti serve perché gli artisti che parlano solo di se stessi nel momento in cui ti svegli una mattina e non sei motivato di voler parlare per te non lo fai perché il fine è per te stesso se tu invece lo fai per altre persone quando non hai gas ti guardi a fianco e dici ok devo avere gas per lui o se non è per lui per lui per lui per lui quindi il mio punto di forza in realtà è proprio le persone qua attorno i valori non so come dire la semplicità e la realisticità però cioè la realtà di vita di quello che ho attorno però può essere anche non so come dire come tu dici magari dell'ombrello capito un botto di volte magari in dei pezzi parlo di delle cose che mi succedono quindi parlo del mio anche però secondo me è super sano è super importante il fatto di guardare cos'è attorno poi ci sono artisti che non lo so magari ci sono artisti che raccontano storie di altri ok per esempio non lo so Izi è un artista con cui abbiamo lavorato super artista super proprio mega lui mi ha detto tipo si sta perdendo la cosa di e quindi a lui adesso cercherà di farlo un po' di più di parlare di cose che non lo toccano nello specifico ma parlare di storie magari tipo di cantastorie di una volta capito cioè parlare della sua città parlare della storia di una ragazza che poi magari non conosce però secondo me tanto alla base c'è sempre il fatto di fare quello che ti piace e quello che sei quindi se come dici tu ti piace parlare del tuo ombrello è corretto che tu parli del tuo ombrello anche se può essere cioè quella lì tanto è sempre la chiave capito perché la funzionalità delle cose poi alla fine è fare quello che ti piace a modo tuo perché come la ragazza che diceva prima io do il mio cuore sono sicuro che nel momento in cui fa ascoltare una canzone a qualcuno lei guarda quel qualcuno e sta dando il suo cuore hai capito cioè perché è suo lo sente suo il tuo ombrello tu lo senti tuo capito è una cosa che se qualcuno ti dice che merda sta roba tu gli dici no ha capito quindi secondo me sì grazie niente tranquillo siccome hai citato questa cosa mentre arrivano le loro domande ti chiedo una cosa è stato bello uso il plurale vedervi arrivare no eravate tanti quando siete entrati a scuola e ne parlavamo un po' in cortile prima questa è una cosa su cui insistiamo abbastanza qui soprattutto da Academy che è il corso che frequentano loro che la scrittura per quanto ce la raccontiamo come un fatto individuale non è mai proprio tanto individuale tu come la pensi questo rispetto alla tua arte cioè pensi che il tuo lavoro sia diciamo solitario o assolutamente no e quanto è importante il gruppo che ti sta intorno secondo me cioè proprio io nell'atto specifico super importante che ho attorno e non è mai una cosa individuale cioè ma neanche lì non c'è niente di individuale secondo me perché quando facciamo il concerto della vita e comunque quel concerto della vita è messo in piedi da qualcuno non so come dire cioè non dipende solo da me capito così come io in quel momento posso sbagliare qualcosa cantando e quindi è colpa mia il mio amico che deve dare l'acqua se la lancia forte in faccia a qualcuno è colpa sua capito quindi non so come dire c'è importante secondo me cioè non è mai individuale nel senso le persone che dicono di farcela da sole o veramente sono proprio da sole che attorno non hanno nessuno però ti dico c'è anche quella lì secondo me è un'artisticità nel senso che comunque hai la forza da solo di poter fare tutta quella roba lì io però in realtà no cioè nel senso dovessi essere da solo senza tutte le persone che ho attorno ma quasi non sapevo neanche di cosa raccontare non so come dire cioè ho paura che lo farei per due volte la terza mattina in studio mi guardo lo specchio e dico cosa racconto di me niente cioè comunque è importante avere le persone giuste attorno cioè io il mio miglior amico mio fratello di sangue un altro migliore cioè non so come dire sono persone che io ci tengo perché se fosse arrivato qua oggi da solo non mi sarei sentito me stesso a mio agio così come se ho le persone qua attorno quindi cerco sempre di infilarli nelle cose di farle avere con me perché fanno parte di me comunque fanno parte di questo chiarissimo e su questo e poi lascio la parola a loro nella scrittura si parla di editing no? ma anche nei video credo nella musica si parla in qualche modo di editing c'è qualcuno che arriva a vedere ciò che hai scritto e riesce a darti quella parola quella critica che però è costruttiva e ti serve per migliorare appunto c'è un corrispettivo nella musica che fai tu? sì 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 poi dipende sempre da chi nel senso io per esempio sono una persona che l'editing mi piace dalle persone di cui so che quando mi dicono qualcosa mi danno un più uno perché alle volte può anche essere fastidioso giustamente ma come immagino voi se scrivete qualcosa dove ci mettete l'anima e un amico già che tu dici ad un tuo amico o ad una persona ascoltalo devi sempre porti in maniera di secondo me di non dirgli tipo bro ascolta e dimmi se c'è qualcosa che non ti piace perché automaticamente una persona cercherà un qualcosa anche se non è nullo non so come dire per dirti secondo me devi far ascoltare le persone ti dicono io per esempio sul fattore editing ho il mio produttore che lui proprio è proprio un lavoro a due mani ma proprio veramente non è per dare punti è proprio da punti perché di merita è proprio un lavoro che è proprio un 50-50 perché lui comunque oltre a fare la base sotto è una persona che va a curare anche quello che dico cioè alle volte io scrivo delle cose e lui mi dice qua puoi pensa di più sì lavoraci di più comunque puoi dirle in maniera ancora più pesante perché in quel periodo magari non sei stato bene puoi dirlo in maniera più pesante e io dico che c'è comunque uno sprono anche una roba in più grazie niente a voi ciao ciao tu parlavi prima di raccontare un po' le storie degli altri e a me è venuto in mente che circa tre anni fa ero seguita in questo centro per dei miei che ho e ho conosciuto questa ragazza che mi ha raccontato la sua storia e da lì di getto ho scritto un testo che volevo trasformare in una canzone ma non ci sono mai riuscita molte volte mi è capitato di farlo leggere a persone magari che fossero esperte così ma non sono mai riuscita a dare voce a quelle parole che avevo scritto e non so è una cosa che che vorrei fare e non lo so cioè è una storia molto personale che tocca anche me perché un po' mi riguarda e non so uno dei motivi per cui sono qui è perché vorrei appunto raccontare delle storie di persone che ho conosciuto nel tempo magari però comunque nel senso non so non è proprio una domanda no si si ci sta un dire che non lo so come si fa poi a cioè trasformare quel quel testo che magari racconta qualcosa di davvero tanto forte per un pubblico di persone che magari non riescono ad accettare perché c'è molto stigma su certi argomenti quindi cioè non lo so magari puoi se tu non sei la voce adatta puoi fargli dar voce a qualcun altro nel senso ci sono tante persone che per esempio nella musica i songwriter scrivono per qualcun altro però parlano di cose comunque loro personali magari io per esempio ho una ragazza che conosco comunque ho avuto modo di parlare di questa cosa qua che si chiama Federica Abate una ragazza che scrive per tanti artisti e lei mi ha detto cioè io io l'ho proprio chiesta questa roba qua e lei anzi noi eravamo in un congresso tipo ecco ecco perché c'ho questa info eravamo in una roba tipo che si chiamava woman in business woman in music comunque era una cosa per le donne ok per le donne nel settore della musica e lei comunque ha raccontato e fa io parlo anche di cose mie personali ma magari interpretate da quella persona sono meglio e prende ancora più valore il tutto cioè comunque alla base ci deve essere il fatto di fare arte ok quindi se tu puoi condividere la tua arte con un'altra persona e quella persona la può cantare meglio la può raccontare meglio cose del genere secondo me è sempre è sempre utile l'importante cioè la cosa importante di tutto ciò in realtà è già quello che tu hai fatto alla base cioè nel senso il fatto di parlare di questa situazione che senti anche tua poi capire come tirarla fuori eccetera ci sono tante strade cioè devi vedere quella che senti più tua però l'importante è già qua ce l'hai già fatto l'importante mi permetti di sottolineare un passaggio di ciò che hai detto perché secondo me è molto importante per loro insomma in generale per chi vuole raccontare storie che non è detto che la storia che ha più valore per te come persona sia poi quella che tu sei in grado di raccontare magari tu hai una voce adatta a raccontare una storia che è distante da te quella storia lì per tua rimane importantissima fondamentale intensa e qualcun altro la racconteranno o tu la regalerai a qualcun altro quindi è molto utile per noi anche quello che hai detto ciao mi risuona molto quello che dici sul gruppo io per tanti anni ho sempre avuto un piano ma c'era qualcosa che non tornava perché mi avevano insegnato il modello del self made man del farcela da soli di metterci la faccia e poi ho scoperto un giorno che invece no bisogna avere un gruppo bisogna fare cose fighe con persone fighe e un giorno una persona mette questa roba qua cool things with cool people e per me è proprio cambiato lo scenario e lui ha detto questa cosa qua in un senso generazionale nel senso che diceva rispetto alle generazioni passate la nostra nuova generazione tu sei 0-1 credo a questa nuova cosa che crede tanto nel gruppo crede tanto non nel metterci la faccia come persona unica come guarda che figo ce l'ho fatta ma sto facendo cose fighe con persone fighe magari un giorno ce la faremo ma è un noi non è un io e per me io ascolto tanta musica rap mi piacciono tantissimo gli emergenti tanta gente giovane come te e tu sei uno dei miei preferiti perché sei il self perché sei fortemente generazionale tu per secondo me rappresenti con la tua estetica con la tua musica con quello che dici con il tuo lessico anche con tutto ciò che avete costruito una rappresentazione della generazione nostra Zeta fighissima che è quello che più mi risuona dentro e quindi volevo chiederti tu come ti poni verso la nostra generazione se c'è un pensiero dietro a questo processo oppure se è semplicemente secondo me siamo tutti bro cioè nel senso siamo tutti siamo tutti sulla stessa barca cioè nel senso siamo tutti comunque raga tutte le persone in questa stanza ma tutte le persone fuori abbiamo tutti una sbatta non le stesse ma tutti una sbatta abbiamo tutti una cosa che sembra la cosa peggiore del mondo abbiamo tutti un sogno cioè siamo tutti uguali in realtà non cambia niente quindi secondo me è questo cioè poi comunque anche la roba della generazione cioè nel senso io sono felice perché tu hai proprio capito il punto ed non è una roba facile però anche chi non lo capisce so che ci sarà poi è come quegli artisti che non capisci dici mi fa cagare per il gusto di dire mi fa cagare ok però tanto poi c'è sempre la traccia che ti colpisce perché parla di quello che hai dentro e da lì dici ok allora forse no e poi ti puoi anche prendere di quella roba lì secondo me è sempre la stessa cosa così come la cosa che dicevi tu prima di essere un collettivo è molto meglio essere un collettivo cioè nel senso hai meno fatica hai meno quella roba che dicevo quando ti svegli al mattino non hai voglia c'è un altro che ha la voglia per te ti tira in mezzo così come quando tu devi essere la punta d'attacco sarai tu la punta d'attacco fare tutto da solo non è manco non dico che magari è più gratificante anche quando arrivi alla fine non lo so però c'è tutti insieme non so come dire è troppo più bello se arrivi da solo alla fine c'è da solo capito è troppo è meglio quasi per assurdo arrivare a 50 con delle persone che arrivare a 100 da solo perché poi ti guardi intorno invece con 50 sei con altri non so come dire è meglio grazie siccome si è parlato un secondo di lessico ti faccio una domanda poi lascio la parola se sei in una scuola appunto di scrittura qua si ha un sacco a che fare con le parole il tuo rapporto con le parole c'è una parola di cui in questo momento delle parole in questo momento di cui sei particolarmente innamorato o no c'è qualche parola che ti suona nel cervello e poi ti volevo chiedere vabbè tu sei diciamo noto per il fatto di portare dei suoni di trasformarli in parole e di metterli poi in musica come funziona questa cosa dove ti cercano i suoni ovunque immagino però insomma ci racconti di questo di questo aspetto qui come fai a trovare non è che c'è proprio una risposta a sta roba c'è nel senso allora io oggi raga avevo paura di venire qua perché avevo paura di parlare a un pubblico tipo troppo teorico rispetto a me c'è nel senso io raga faccio cioè tante volte io ho capito faccio musica e poi qualcuno mi dice bro qua hai fatto quella roba lì e io non so cosa sia quella roba lì l'ho fatta perché mi piace fare quello che non lo so mi piace ok quindi non lo so c'è nel senso tipo la roba delle sporche che è una roba alla fine secondo me un po' più cioè dovessi tipo a livello di scrittura dare un accento su qualcosa sono sicuro anche io che siano le sporche semplicemente però è una cosa super semplice c'è nel senso quello che cioè a me piacciono i suoni ok ve lo dico nella mia ignoranza a me piacciono i suoni piacciono i versi piacciono queste cose qua quello che un artista magari per esempio i migos che ne so tanti anni fa che ha inventato questa roba qua faceva come sporca io li mettevo in strofa quindi cioè gli davo più peso e più spazio e ho iniziato così nel senso prendendo magari delle sporche anche da altri cose un po' più semplici e poi non lo so escono sì nel senso magari sento un rumore no però così non proprio così è capitato di che io sentissi un rumore cercassi di replicarlo ma non che vado in giro capite sento il gufo che fa uuu e dico uuu cioè non è così è meno come dire è meno concettuale cioè meno così però non lo so cioè sono proprio legato nella mia scrittura alla parola bella magari tante volte trovo una parola che è bella che non c'entra niente con quello che io sto dicendo lì cerco di riarrangiarla in una chiave affinché abbia un senso nel senso una volta ero molto più di pancia quindi facevo le cose le prendevo boom 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 lanciavo basta adesso invece mi rendo conto che voglio far sì che abbia tutto un senso quindi per esempio io non ho il telefono qua ho il telefono comunque con una nota con delle note che tipo io da quando faccio da quando ho l'iPhone penso da questo telefono quindi non lo so da sei anni sette anni dove ho tantissime parole tantissime robe veramente tantissime e alle volte non mi sforzo manco nel dire come dire devo incastrare questa se non c'è spazio ora ci sarà sempre per i discorsi di prima vent'anni di carriera ci sarà spazio poi sì però nasce proprio da non so se ho colpito il punto di quello che mi avevi chiesto però nasce dalla parola magari alle volte sono all'estero mi piace tanto viaggiare leggo un bar una via qualcosa me lo segno mi cerco su Google se ha senso o non ha senso se non ha senso cioè solo una cosa legata a quella roba lì cerco di dargli un senso legato a quella roba lì cioè magari non ho cose in mente in questo momento però cioè se ci sono che ne so per esempio che ne so mi piace Senigaglia come parola ok è una città non so manco quanto sia cioè è più stilosa la parola della città ok finché la incastrerò nel momento in cui non so come dire ha senso anzi l'ho incastrato in un pezzo in cui dicevo tipo Senigaglia Porto Rico quindi tipo da una parte a una parte dopo che ho fatto un live a Senigaglia e quindi ha avuto senso quindi è così sì sì bravo anche sulla teoria spero che ti abbiamo tranquillizzato sul fatto che non siamo fissati sì noi qua vorremmo chiedere cioè da cosa hai iniziato nel senso da come hai fatto a capire che questo era il tuo percorso non avevi tante opzioni che c'erano noi anche siamo molto indecisi quindi come hai fatto a sapere che quello è quello che volevi fare perché di pancia era la cosa che mi piaceva cioè nel senso io sono io ho sempre fatto musica ok sono arrivato ad una certa in cui era quinta superiore ok l'anno dopo che faccio l'anno dopo quindi lì ho detto ok quali sono le cose che realmente mi piacciono comunque nel mio percorso alle volte ho anche mi sono domandato se la musica fosse veramente la strada che volevo quindi non so come dire cioè questo magari se a voi capita raga easy nel senso mettersi in dubbio è proprio importante per avere poi ancora più sicurezza su quello che vuoi fare in quinta superiore penso che mi sono guardato allo specchio e ho detto ok cos'è che realmente mi piace ho detto la musica mi piace sì può essere un qualcosa un domani non solo un sogno dato che quando inizi sembra solo un sogno impossibile lontano cioè il tuo vicino di casa non l'ha mai fatto quella persona lì non l'ha mai fatto quindi non lo puoi fare e invece non lo so c'è nel senso ho detto ok devo dare proprio al cento per cento me stesso ho iniziato quasi anche se era sbagliato però nel mio caso è stato giusto a mettere un po' da parte la scuola pur di fare quella roba lì che comunque in quinta cioè comunque la quinta è stato un anno particolare perché io volevo ho iniziato ho sempre lavorato però tipo facendo lavoretti così ho iniziato proprio a lavorare tipo sei giorni su sette consegnavo le pizze ogni volta a fine scuola quindi fare la maturità fatta bene cercare di far musica nella maniera migliore per poter avere lavorare per poter avere degli investimenti da poter mettere è tosta come roba capito però tipo io in Mississippi Drive che è il pezzo con Wits dico tipo basta un anno basta un anno fatto bene e ottieni il massimo perché basta un anno in cui tu diventi super meticoloso sulle robe super che dici ti progetti il tutto e ti dà modo di poi poter con più calma lavorare ancora e ingigantire le cose ancora di più quindi un po' un po' questo niente poi servono otto microfoni esatto infatti il povero Federico corre grazie ciao ciao allora io vorremmo chiederti visto che da sempre il rap è una cultura che dà voce soprattutto alle minoranze e nasce anche proprio per questo cioè da un punto di vista sociale e politico con questo gap generazionale che abbiamo vissuto ormai diciamo che è quasi non dico completamente però parzialmente sgretolato quasi come sia più importante fare magari 15 secondi di ritornello super figo che ti entra in testa su tiktok su tiktok però poi fondamentalmente in tre minuti e mezzo tutto quello per cui il rap nasce si perde quindi vorrei chiederti questo che vabbè abbiamo già detto e io ti auguro che tu possa avere una carriera lunghissima e spero soprattutto che tu anche in futuro ti potrai anche non so potrai riprendere i big del rap anche italiano che hanno trattato tanti argomenti e che non si sono fermati solo a quei 15 secondi di ritornello e soprattutto che ne pensi cioè se tu vivi anche questa cosa o se al momento non ci pensi o se secondo me ci sarà un punto di rottura nella musica nel senso perché comunque questa cosa qua è tanto presente la gente lo sa che è presente l'ascoltatore medio sa che cioè non è l'ascoltatore medio ci sono tante persone che si accontentano di musica non al top così come tante altre persone magari un po' più intelligenti tipo voi secondo me dove dici io mi ascolto una roba se mi piace poi ci sta la traccia che ma l'artista cui ti leghi l'artista che ti tatui sulla pelle è un artista che deve lasciarti qualcosa secondo me quindi non lo so secondo me noi cerchiamo di non pensare a questa cosa qua nel senso di andare avanti a fare quello che ci piace anzi io sto sempre cercando di ve ne accorgerete poi nella parte 2 del disco di dare sempre più peso perché mi sono detto sto parlando ad un pubblico di persone all'inizio è difficile mettersi a nudo ok magari è anche una responsabilità certo adesso è diventata una responsabilità esatto sì 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 sento questa roba di dire ok bisogna fare le cose fatte bene capito se io sto parlando a delle persone come posso aiutarle c'è per esempio una traccia che tocca un tema che è sull'amicizia ok sul perdere gli amici che è detto in maniera molto vera ok e io avrei voluto che un artista facesse una canzone così in cui io in quel momento di difficoltà mi fossi potuto rispecchiare ok quindi semplicemente cerco di fare quello che a me piace e che mi gasa nel senso senza stare a guardare quella roba di tiktok nel senso per esempio Captato è andata virale su tiktok mississippi drive però sono delle hit cioè non so come dire sono dei pezzi che eh no sì sono dei pezzi che poi io ascolto e dico cioè comunque è figa mississippi drive sì è andato virale il mississippi comunque un pezzo cioè un feat con Wiz Khalifa capito un pezzo di spessore Captato è un pezzo che è super siloso abbiamo preso una fisarmonica c'è un botto di cultura quella roba lì in realtà capito quindi sì esatto quindi dico se deve andare in virale 15 secondi di canzone non sarà perché io mi tengo le barre migliori perché 15 secondi per far funzionare la canzone ma sarà perché un'unione di cose fa sì che che la canzone funzioni comunque è importante fare musica per lasciare qualcosa alle persone super importante cioè a prescindere da cosa sia però sì c'è nel senso un artista come Marrakesh lascerà molto di più di una persona che adesso sta facendo qualcosa ma che non si sa quindi secondo me o sei bravo a cavalcare i trend ma a cambiarli perennemente nel senso ci sono artisti che magari non raccontano chissà cosa però sono sempre al top ok secondo me quegli artisti lì sono molto bravi a dire funziona questa roba faccio quella roba lì e quindi riescono anche come dire è una cultura musicale però diciamo che non va poi a comprendere anche la cultura sociale e politica che comunque non è necessario che una persona no 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 certo anche perché ognuno parla di quello che si sente come dicevamo prima però sì magari ci sono artisti come Marra capito che tu dici c'è nessuno può dire ah capito perché magari non ti piace che ne so qualcosa di lui però lui no lui è molto politico anche nelle cose che scrive quindi è sempre lo stesso discorso cioè se vuoi se vuoi il bottino pieno adesso o il bottone domani cioè sempre la stessa roba secondo me comunque raga la cosa più stilosa che ci possa essere è lasciare un segno del tuo passaggio capito cioè non lo so tipo Sfera c'ha una piazza col suo nome cioè capito è grossa è figa quella roba lì vuol dire che un domani anche quando sarà morto ci sarà la piazza col suo nome ok è il primo che mi viene in mente poi non lo so quindi ok grazie questi sono quelli che hanno saltato la lezione di terza fatemi fare una domanda no prima di tutto cioè voglio fare i complimenti per una questione più tecnica cioè qualche giorno fa leggevo un articolo di Outpump che praticamente si cioè si riconosceva il fatto che oggi negli album mancano le intro mancano le outro mancano gli interlude e che in un certo senso prima andavano a delineare il concept dell'album invece tu è stato coltario quindi apprezzo tantissimo perché sono cresciuto con i album rap che avevano tutti quanti una intro un outro e avevano tutti appunto lo skit tipo la skit anche esatto non se ne vedono più assolutamente no però la mia domanda poi c'entrava con un altro ho avuto un breve periodo di due tre anni in cui ho registrato ho fatto canzoni è stata una bellissima esperienza con tutti i miei amici in studio divertentissimo poi vabbè si è fermato per vari motivi però però ricordo un certo senso un certo obiettivo che che in un certo modo comunque persegui quando fai quella roba là ovvero la classica frase del ce l'ho fatta ok qual è stato la mia domanda è qual è stato il momento in cui tu ti sei reso conto effettivamente si è potuto dire ce l'ho fatta non so può essere stato un live un numero di stream magari che ti ha soddisfatto particolarmente o firmare con una casa discografica non so però questa è la mia curiosità allora il vero ce l'ho fatta cioè non è per fare la roba da umile cioè sono serio il vero ce l'ho fatta è una cosa che io non ho ok il fatto di dire ok posso andare in pace cioè non posso andare in pace capito cioè perché il mio vero ce l'ho fatta secondo me sarà un domani quando i discorsi che facevamo prima capito c'è nel senso un domani quando farò tornare non io però io con la mia fanbase avrò un rapporto per cui farò tornare veramente l'ascolto ok la storia la roba che dici tu intro più altro capito quindi non è che devo farlo io per l'Italia io devo farlo per me e per i miei capito cioè per le persone che decidono di seguire la mia bandiera quindi quello è il vero ce l'ho fatta c'è un domani secondo me in cui non so come dirti fai un palazzetto con 12.000 persone in cui le persone cantano i pezzi più intimi più meno trap cioè nel senso più ok più veri più artistici lì dirò ce l'ho fatta adesso c'è nel senso semplicemente la cosa c'è nel senso secondo me la cosa che mi ha messo un po' più tranquillità rispetto magari in quegli anni in cui proprio come un pazzo grindavo tantissimo dicevo devo devo perché non ho dente devo sicuramente il fatto di poterlo avere su un lavoro c'è nel senso il fatto di poter avere delle economie in più che comunque nella vita ti danno più tranquillità cioè ti fanno dire ok posso permettermi di stare fermo due settimane in più e di fare le cose fatte bene ok almeno nel mio campo poi nel vostro magari non è proprio così però e il fatto di avere comunque una nicchia di fanbase come diceva prima la ragazza vera cioè nel senso magari il fatto di fare due magazzini generali a Milano vedi davanti a te quante sono duemila e qualcosa persone capito che sono lì che cantano tutti i pezzi che comprano il merch prima una ragazza non so chi mi ha fatto vedere in videochiamata non so se era il suo ragazzo in Abruzzo col mio merch e con appeso in camera il mio coso firmato capito cioè io mi appendo lì il baby ok quindi se qualcuno si appende me vuol dire che c'è dico wow capito è figo quindi queste due cose qua secondo me c'è il fatto comunque anche di essere apprezzato riconosciuto sia dalle persone sia da anche magari altre artisti capito artisti più grandi che ti dicono artisti che tu stimi che dici Mizega quello è qui e ti dica spacchi bro fai una roba figa bella questa roba qua bella quell'altra c'è stato una volta un artista tanto grosso che mi aveva detto tipo bro tu sei come me fai una cosa che non viene capita agli inizi però un domani quando verrà capita perché ci vuole tempo quando tu spezzi un po' le regole del gioco non è capibilissimo subito cioè ci metti un po' quando poi verrà capita lui mi ha detto tipo cadrà la pioggia ok e io capisco che è realmente così cioè questo mi dà la serenità di dire ok vent'anni ci metterò dieci quello che ci devo mettere ci metto allora ti auguro di grazie grazie ciao ciao allora io in realtà sto facendo una domanda che ho fatto un po' a tutti gli ospiti questa settimana è riguarda quel momento in cui io la definisco come la paura della pagina piena quando hai qualcosa che vuoi dire ma ti fa fatica proprio l'atto fisico di sederti alla sedia e metterti a fare quello che devi fare proprio tu in particolare personalmente cosa ti fa appunto sedere alla sedia nonostante ora sto per spuntato ma in realtà forse nemmeno ce l'hai la paura della pagina nera della pagina piena e il fatto di non essere ancora arrivato al mio obiettivo forse c'è il fatto che comunque mi sveglio la mattina e ho ancora delle cose che mi danno fastidio quella cosa lì mi fa dire ok però ci sono ancora delle cose da mettere a posto nella mia vita io personalmente io nella musica però la musica è una cosa come la scrittura alla fine scrittura è molto cioè fa proprio parte della tua vita è proprio una roba che c'è il cento per cento della tua vita magari se tu facessi un altro lavoro non avresti la stessa fortuna quindi tu la roba della pagina piena la intendi come come dire qualcosa che tu senti il peso di dover raccontare ma non riesci oppure questa cosa qua eh questa cosa qua sì questa cosa qua c'è tipo appunto il pezzo che vi dicevo prima degli amici dove raccontavo della mia storia è stata una roba che c'è non è stato facile comunque capito ci ho messo un po' a scriverla avevo emozione nel momento in cui la facevo sentire per la prima volta a chi me la stava per registrare però è avvenuto in un momento in cui è sempre allora Sala mi dice sempre tu non puoi svegliarti la mattina appena sveglio e pensare di fare i cento metri migliori della tua vita ok questo significa che tu devi saper essere nella bolla giusta in quel momento per fare qualcosa quindi io sapevo di dover parlare di questa situazione prima o poi mi sono trovato in una situazione in cui eravamo in Toscana in una bella casa con un bel produttore tranquilli in cui mi hanno detto cosa possiamo fare appena finito un discorso tipo dobbiamo cambiare questo cambiare l'altro cosa possiamo fare lui ha detto il pezzo si chiama verità nel mezzo ok lui ha detto questa roba tipo lui mi fa quando litighi con tua mamma capito che dici pensi che ognuno abbia la propria ragione ma tanto la verità è nel mezzo tu non avrai mai ragione lei non avrà mai ragione allora gli ho detto ok posso farlo però l'unica cosa nella mia vita in cui ho avuto questa cosa qua è stato appunto il discorso dei miei amici che magari una persona che non ha mai avuto problemi con degli amici non capisce il peso di questa roba ok così come io magari che non ho mai avuto problemi con mia madre non posso capire il peso di la verità nel mezzo tra genitori e figlio quindi mi sono messo nella bolla giusta ero nella bolla giusta non mi sono messo ero nella bolla giusta nella mia tranquillità per poter dire ok provo lo faccio però poi quelle robe lì sono le cose che non so come dire cioè io se dovessi dirti qual è il cuore del disco nuovo quello è il cuore cioè quello è proprio il battito capito perché io lo sento così ci sono altri pezzi magari fighissimi schillatissimi in parole assurde però non potrei mai non potrei mai avere quel legame lì con quella cosa lì quindi secondo me devi devi sapere che prima o poi lo devi fare ci vuole quella consapevolezza lì non appena ti senti nel momento di metterti sulla sedia per parlarne tirerai fuori il meglio e ti verrà normale grazie niente ciao allora io ho una domanda ok scusami sono perso ci sono molti rapper o anche vabbè cantanti soprattutto rapper c'è una divisione tra vari rapper chi ha diversi produttori e chi ha un produttore solo che se lo porta praticamente per tutta la vita tu dici una frase tipo Sala Sala è il produttore di Sile Sala ha dovuto capire me prima dei fan e volevo chiederti com'è nata diciamo questa concomitanza con Sala così pressante e così incredibile è dal cioè nasce dal quando hai tanta affinità con una persona cioè quando ti trovi bene quando magari fai un discorso e cioè ti guardi e dici la pensiamo uguale capito ce la stiamo pensando uguale quindi in realtà io non è che tipo non abbia mai lavorato con altri produttori lavoro con altri produttori però con Sala ho trovato proprio un cioè è proprio un uno a uno non so come dirti cioè nel senso riesce a tirarmi riesce a tirare fuori il meglio di me Sala ok invece quando nel mio caso quando io lavoro con altri produttori mi sento di dover io tirare fuori il meglio di me mixati a loro o il meglio di loro ok quindi non ti piove dal cielo una persona che ti capisca al cento per cento e non deve essere come dire una tua paura il fatto di cercarla se non l'hai ancora trovata però una volta che poi la trovi c'è proprio ti senti di avere il mondo in mano non so come dire c'è ti senti di dire ok questo è il mio piano questo 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 quello facciamolo non vorrei questo dovrebbe essere il mio piano mi piace cioè non so come dire quando sei in due specialmente con quell'affinità lì proprio funziona la roba non so come mi spiace che oggi non c'è perché sta chiudendo appunto delle robe che erano musicali che proprio servono se no non usciamo con la nuova musica però io ho un'altra domanda prima finiamo il giro di domande dato che c'è un impianto musicale incredibile se dopo vuoi fare un po' di freestyle alla fine io non faccio freestyle è l'unica roba magari come Real Talk che usi pezzi delle tue canzoni sulle basi ed è un'ora che sta facendo freestyle rispondendo alle vostre domande no vabbè c'è se ma voi vorreste direttamente l'affare se fare la sinistra sì però no come vuoi tutto come vuoi tutto come vuoi ma intanto sentiamo l'altra domanda così tu dai dai va bene no va allora la mia era una domanda in realtà più nel senso capisco molto il discorso che hai fatto prima sugli amici sull'importanza di avere una comunità un gruppo al quale riferirsi perché oggettivamente è molto più figo creare un gruppo ed è molto più facile perché le tue singole capacità insieme dei singoli membri del gruppo creano una cosa assurdamente più grande nel totale la mia grande domanda è io cioè a me piace uscire con la gente mi piace creare questo tipo di gruppi perché comunque ti spingono e ti stimolano in un modo stupendo però io ho molto il problema che è difficile conciliare questi gruppi e alla fine come si dice diciamo il tempo che devi darti per riposare te stesso per pensare cioè io trovo molto difficile conciliare il tempo che non lo so passo con i gruppi di amici e lo percepisco come un tempo che va molto di fretta è molto veloce molto rapido dinamico e poi però mi trovo in dei momenti nei quali ho bisogno di stare da solo quelle due ore per metabolizzare tutte le cazzate che abbiamo detto o quello che può essere diciamo scusate a francesi però ecco la mia domanda è anche a te ogni tanto succede se si in che modo si si ma anche a me succede allora io tipo nell'ultimo anno di vita si è riempita un po' così tanto la vita di cose da fare di cose così che mi rendo conto che in realtà riesco a passare meno tempo rispetto una volta da solo nei miei pensieri ed è una cosa che mi manca capito quindi se tu ce l'hai in realtà è una cosa super positiva e super bella secondo me è sempre la ricetta dell'equilibrio cioè nel senso è giusto cioè tante volte non so come dire anche se i tuoi amici non fanno anche se le persone intorno a te non fanno qualcosa nell'atto pratico che può aiutarti nel tuo percorso in realtà se ti fanno stare bene lo stanno facendo già già il fatto che ci siano cioè il fatto di sapere che ci sono ma è quello certo cioè come dicevo prima io prima ho fatto l'esempio perché il primo che mi è venuto in mente se il mio amico lancia l'acqua sbagliato ok se non c'è il mio amico cioè se non c'è l'acqua quella sera e non lanciano l'acqua non significa che il mio amico non stia facendo qualcosa per me cioè il fare qualcosa per me può anche essere stare zitti insieme non so cioè quello è qualcosa perché poi tu hai qualcosa cioè lo stare bene alla fine quella è la chiave se tu riesci a crearti una bolla intorno nella quale stai bene anche se tanto cioè non puoi sempre stare bene non so come dire è naturale però questa cosa qua secondo me ti può portare a finalizzare di più cioè nel senso a essere più propenso o comunque un po' più positivo nel fare cose sì capisco grazie niente però scusami ultima cosa cioè capisco molto questa cosa che dici tu che anche quando non sto parlando degli amici non socializzo il fatto che loro siano là è uno stimolo in più a creare come dici tu la pagina non mi esce per me però c'ho queste tre persone alle quali ho promesso la pagina quindi la devi fare e quindi la devi fare esatto che alla fine vedendola in modo positivo in realtà è uno stimolo pazzesco comunque nascono sempre cose essendo circondati c'è più stimoli troppa gente che è interessante qua io sto andando in crisi meno male è bello grazie mille a te ok mentre sta nel microfono ti chiedo una curiosità una cosa che mi ha colpito tantissimo allora da appunto ignorante completa però trovo i tuoi video splendidi e mi ha colpito moltissimo il fatto che tu a un certo punto abbia diciamo preso il gospel abbia scelto il gospel come forma come è che sei arrivato lì come è andata? perché ascoltando tanta musica ci piace tanto il gospel e ci siamo resi conto allora noi siamo andati la prima volta che abbiamo utilizzato il gospel siamo andati in America in una vera a Compton proprio in una vera chiesa che abbiamo registrato dal vivo e lì è nato a caso nel senso perché eravamo in studio questa è la figata dell'America eravamo in studio il mio produttore fa come per di più e lo stesso ho imparato ah no è un altro pezzo vabbè però comunque è dello stesso EP non si è e ha detto dobbiamo capire come chiudere questo pezzo la seconda strofa non ci sta sarebbe da rendere più leggero ci sarebbe figo fare una roba che non c'entra niente tipo un coro gospel la persona che era lì fa ok lo chiamo c'è proprio così e questa è la figata della me quindi vai lì abbiamo registrato questi cori che non è che non c'entravano troppo in realtà con la traccia però ha reso quell'idea lì cioè non so come dire ha avuto senso tutto insieme cioè che tu dici ok figo cioè noi proprio siamo andati lì ed era così bello il gospel che i tipi dicevano lo volete così o così cioè non capivamo quindi è nato così quando poi siamo andati in abbiamo fatto i magazzini generali a Milano due date nostre le prime due date eccetera abbiamo messo il coro gospel e qualunque persona da mia mamma al fan all'influencer qual è stato il momento più alto dell'album il coro gospel da lei abbiamo detto ok il coro gospel è una cosa che voi non sapete ma piace a tutti perché se ora qua ci fosse qualcuno che canta il coro gospel nessuno non può muovere proprio ti piace è una cosa che non te lo ascolti in macchina perché non ti ascolti il gospel però è una cosa che piace quindi abbiamo deciso di unire un po' questa roba qua comunque all'inizio usavamo tanto trombe robe del genere abbiamo detto sarebbe figo portare un po' più di gospel capito variare un po' più così e infatti nell'album c'è tanta roba con i cori c'è tanta roba non puramente gospel però abbiamo riadattato il gospel sulla nostra roba e volevamo poi proprio renderlo anche più domani più come dire più solido questo accompagnamento gospel quindi poi vogliamo vedere cosa fare dopo il disco ma avremmo voluto portare ancora di più quella roba del gospel perché è una roba che ci dà gas nello stomaco e ci piace grazie per chi non conosce i pezzi col gospel vi consiglio di cercarli perché sono molto sono qua volevo chiedere come si fa a capire la differenza tra una critica costruttiva e una critica invece che non lo è io mi immagino un artista uno scrittore o anche un musicista che ci mette l'anima dentro ciò che scrive e quindi a volte rimane un po' accecati dall'idea che qualcuno ti stia criticando in maniera costruttiva o non perché ci sono delle persone che cercano di tirarti su e di aiutarti e invece delle persone che in realtà cercano di tirarti giù e come si fa in realtà a comprendere quando qualcuno ti sta aiutando e quando qualcuno invece magari ti sta appunto tirando giù e allora no secondo me è semplicemente nel nell'avere la capacità io per esempio ce l'ho non so se è una roba di tutti però avere capacità nel capire cosa è costruttivo e cosa non nel senso a priori una critica se non viene fatta da una persona di cui tu hai veramente tanta stima dà fastidio a priori è una cosa che ti dà fastidio perché possono anche propormi l'idea della vita ma se non è detta dalla persona giusta a me dà fastidio di cambiare qualcosa in cui io ho messo l'anima capito devi sempre capire o non lo so c'è nel senso magari quando scrivo delle cose e il mio produttore mi dice questa roba qua sì o questa roba qua no capisco quando per me però è troppo importante non posso cambiarla cioè se per te una cosa è tanto importante non puoi cambiarla se già ti viene un dubbio su quella roba lì significa che puoi dare di più secondo me puoi dare il massimo quindi la cosa delle critiche è che non è facile ma servono a tutti perché servono veramente a tutti però bisogna essere bravi appunto a capire quando è costruttiva e quando no perché tante volte magari come dicevo prima una persona che ha stima di cui tu hai tanta stima può dirti una cavolata e tu la prendi per giusta così come qualcuno che non c'entra niente con la tua vita ti dice una cosa ma tu solo perché non c'entra niente con la tua vita non lo vuoi ascoltare quindi è importante capire se può essere importante per te o no comunque avere il cervello aperto e prendere sempre le informazioni è sempre utile secondo me grazie a te ultima domanda intanto chiedo scusa in anticipo se dopo dovrò chiederti degli autografi sì sì vai tranquillo secondo ovviamente cioè a te importa più la parte musicale perché è la tua passione però quando pubblichi un test o una nuova canzone c'è sempre bisogno di una faccia questa o un video o una copertina o anche per un album quanto peso senti che dai e quanto ti senti sempre partecipi nella parte più estetica diciamo del prodotto eh tanto cioè nel senso secondo me fa parte fa parte della della tua artisticità cioè nel senso il fatto di è come per voi scrivere un romanzo e fregarsene totalmente di che copertina o di che colore sarà pubblicato cioè secondo me è sbagliata come roba non so come dire non è giusto cioè poi dipende sempre da che artista sei però io sono una persona che a cui piace mettere mano in tutto infatti mi ricordo che tipo all'inizio con il nostro team io dicevo vorrei avere una persona che mi faccia i video top di cui fidarmi al top avere un grafico che mi faccia le grafiche top di cui posso fidarmi al top però loro poi mi hanno detto bro tanto tu sei troppo artista e vuoi comunque mettere mano quindi non puoi farla questa roba non puoi pensare solo alla musica secondo me però è un più uno cioè alle volte ti esplode la testa tipo non lo so se devi fare venti cose insieme devi pensare a questo a quello o quell'altro vorresti solo magari nel mio caso tipo pensare alla musica però è comunque utile il fatto di di dare una traccia di te in tutto capito e non curarti solo singolarmente di una cosa è bello dare una forma completa certo sì 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 ma anche perché comunque sei tu che gli dai la forma cioè o se non tu tu aiuti a farsi cioè aiuti a dare quella forma se io ti faccio vedere una copertina ok che non è stata fatta da te non la promuoverai mai come una copertina come la stessa copertina a cui tu hai dato mano in ogni caso cioè è bello essere partecipi sì certo sì 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 ok grazie grazie Gabriele grazie 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 va bene va bene c'è una c'è un'ultima domanda consentita grazie ciao allora guarda volevo chiederti giusto una cosa e allora anch'io ho fatto canzoni per un po' di anni e volevo giusto avere un consiglio non è sulla tua carriera o così è più un consiglio magari se avevi da darmi allora io ho fatto un po' di canzoni e cercavo un pochino di farmi conoscere nel girando magari andando a a delle occupazioni di scuole a farmi sentire di qua e di là solo che diciamo che il il genere principale delle canzoni di adesso è è molto tipo cioè molto incazzato ok che a me non non era proprio la roba che volevo fare io però tipo scendevo un po' a compromessi e alla fine facevo anch'io quel tipo di roba lì secondo te per riuscire a portare un qualcosa di nuovo come credo tu abbia fatto come si può fare tu tipo che musica ti ascolti chi ti piace io ascolto country swag lo sai che sai che shabuzi so che infatti bro no a parte che spacca la risposta sai che shabuzi tu cosa shabuzi sai chi è il primo artista country al mondo bro ci credi che tipo un anno fa eravamo nello stesso salotto e c'era un tipo a cui non ti dico che non gli avrei dato un euro però tipo mi ricordo che no è vero c'era tipo il il fonico da cui andiamo sempre noi che diceva bro lavora con e io sì sì c'era quella roba che tipo facevi quando non avevi tempo hai capito il tipo era il primo al mondo cioè non so è tipo a parte questo però no detto ciò country bro secondo me devi fare quello che ti piace perché ti dico se anche tu ce la facessi ok a fare qualcosa che non ti piace che di solito non funzionano le due robe cioè funziona una roba che ti piace poi tanto non saresti contento di quello che fai e andresti a virare su qualcos'altro e cambiare e non funzionerebbe cioè il country è particolare perché comunque il country è tanto il nostro popolo non ha lo storico del country capito mentre invece l'America ha tanto quella roba lì del country qua non è semplicemente una roba di ascolti ma proprio nella realtà cioè lì se l'ascoltano perché perché tu sei tutto il tempo in macchina loro vivono in macchina per spostarti da una parte all'altra perché i posti sono lontanissimi e quello che guardi fuori il country lo racconta bene ce lo descrive bene qua invece non è propriamente così però scusami certo però secondo me tipo tra il country americano e il cantautorato italiano c'è molta sì vero cioè ci può essere sì 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 vero certo sì 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 perché comunque entrambe le cose raccontano in maniera viva e oserei dire tra virgolette leggera quello che hai attorno non solo a livello stilistico quindi capito a livello di come vengono cantate le canzoni il fatto di rearrangiare comunque il country è un botto di chitarra un botto di queste cose qua è proprio di ciò che hai attorno secondo me non ti dico che è sicuro che tu possa farcela facendo country ma puoi riuscire a trovare tramite l'ispirazione del country anche solo del cantautorato italiano un mix o un connubio figo per cui cioè la roba che diceva prima del gospel se fossi nato dicendo voglio fare gospel non funzionava tanto ok perché non è una cosa che vende qua ok se tu però nella tua arte riesci poi a mixare qualcosa cioè la cosa più figa è il mix sai perché? perché è una roba solo tua perché se tu fai una roba tua country mixata con eccetera e mi dicono a chi assomiglia lui io non te lo so dire perché è tua è una roba tua capito? quindi è sbagliato secondo me il fatto di dire funziona la roba più aggressiva devo fare la roba più aggressiva tu devi fare cioè secondo me bro devi essere ti devi sentire grato e fortunato di fare qualcosa che gli altri non fanno anche se all'inizio non viene capito è sempre lo stesso discorso ma è tutto un giro tutta una ruota le persone si stancano di ascoltare dopo un anno quello che ascoltano vogliono roba nuova sicuramente cioè puoi farcela capito? devi solo mixare bene tutto niente allora ancora una domanda se c'è il paziente allora intanto è un vero piacere essere qui con tutti una cosa che si propone questa scuola è di collegare il narratore con il mondo che lo circonda e questa è una cosa che io vedo molto in comune con te per esempio perché tu sprigioni la tua energia sia nei tuoi versi sia attraverso il tuo corpo che consiglio avresti da dare a quelli che sono chiusi perché siamo italiani noi quindi ci muoviamo tanto no ho capito comunque allora io sono rumeno per esempio ok perfetto no vabbè però no però secondo me devi essere chi sei cioè nel senso se io faccio canzoni solari ok e vengo qua e sono tutto moscio le cose non combaciano quindi significa che io sto facendo una cosa che non sono realmente io secondo me deve essere la stessa roba cioè tipo ci sono tanti artisti chiusi anche se sei una persona chiusa e non lo sprigioni col corpo ci sta cioè nel senso sei tu però tu balli veramente bene parli o balli balli ballo nei tuoi videoclip si vede proprio questa armonia tra i tuoi versi il tuo corpo e questo mi affascina moltissimo per esempio secondo me però è sempre la chiave della formula che è così cioè nel senso sono così ok quindi devi sempre fare quello che è tuo cioè se tu sei una persona statica non so che esempio farvi cioè non vorrei dire che ne so tipo se entra al sì ok che penso conoscete tutti è super chiuso il tipo cioè mi hanno detto per esempio che persone che hanno lavorato con lui che risponde in maniera quasi che sembra non bella ma è semplicemente il tipo è chiuso cioè una persona tanto sulle sue tanto chiusa tu però lo guardi e ha comunque il suo stile cioè secondo me siamo in un mondo e siamo arrivati ad un punto in cui è tutto stiloso cioè se è vero è tutto stiloso e ha tutto un senso ed è tutto bello cioè nel senso è tutto giusto grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti